Signore e signori, The Actor. Questo amo fenomenale viene chiamato The Actor. Ma che cos'è? L'attore continua a rimanere sotto la luce dei riflettori. È stato cacciato dall'aereo dopo essersi rifiutato di spegnere il cellulare. I suoi spostamenti finiscono costantemente sui giornali. L'attore afferma di non avere più una vita privata. Molti uomini sognano di stringere tra le braccia la bellissima attrice. L'attore. Non tire him out too bad on the honeymoon. I'm gonna kill the man! I'm a mighty great white shark lemon and you are a remora clinging to me with your suction cup head. You can't break me down. I got gas in the tank. I could do my own dirty work. I got money in the bank. That's a lot of money, man. I got news for you, baby. You're looking at the man. Whoops! Always be closing. This is not a movie, this is my fucking life. Star, stage and screen. The one and only Alec Baldwin. E adesso, il momento che solo lui stava aspettando, Alec Baldwin. Non diremo cose più cattive di quelle che hai lasciato dette in segreteria a tua figlia. Una volta Alec mi disse che per lui ero come un fratello. E' per questo che non parliamo da dieci anni. So bene che non ero la prima scelta per presentare questa sera. Avrebbe voluto Tracy Morgan, ma lui ha risposto così. Preferirei andare da Walmart con il loro autista, quello che mi è venuto addosso. In molti pensano che Alec sia il migliore dei fratelli Baldwin, ma dire che sei il migliore tra i tuoi fratelli è come se il medico ti dicesse, ottime notizie, hai il miglior tipo di cancro. Alec ha quasi ottenuto il ruolo di Batman nel 1989, ma la parte è andata a Michael Keaton, perché lui era davvero in sintonia con Kim Basinger. Non ci avevo mai pensato. Inoltre, la vera passione di Alec è sempre stata il teatro. E' risaputo che ama scatenarsi sul palco, perché il palco non può denunciarlo. Alec è stato un ubriacone aggressivo prima di diventare una persona sobria e aggressiva? Davvero? In passato, Alec ha avuto seri problemi di alcol, ma li ha superati e non fa qualcosa di serio da vent'anni ormai. Alec è un romanticone. Ha conosciuto la prima moglie mentre girava un film e la seconda mentre girava al parco. Lei si chiama Ilaria, gioiosa in latino, ed è per la nostra gioia che hanno già quattro figli. Finalmente si è dato una calmata. Sua moglie ha una presenza rassicurante e anche una splendida istruttrice di yoga. È riuscita a mettere Alec nella posizione in cui dovrà lavorare fino a quando non morirà. Il lato positivo di avere dei figli in età avanzata è che saranno forti per sollevare la bara. Alec, adesso rilassati, non stringere i pugni e ti prometto che questa sarà l'esperienza più divertente che tu abbia mai avuto e in cui non ti ha aiutato Tina Fey.